Giovani narratori digitali per un'iniziativa che ad Ascoli Piceno punta alla valorizzazione del territorio. Ce ne parla Paolo Marconi. Uno strumento antico quanto il mondo, come il linguaggio narrativo, è uno tipico della modernità, come le nuove tecnologie. Tutto per raccontare un territorio, quello del Piceno, ricco di meraviglie da proporre e da valorizzare. Si chiama Agira, un progetto che ha puntato ad avvicinare giovani tra i 18 e i 35 anni al mondo del cosiddetto storytelling digitale, favorendo una loro partecipazione attiva e consapevole alla vita del territorio. Un progetto curato dall'associazione culturale Melting Pro è realizzato con la collaborazione tra gli altri di Provincia e Comune di Ascoli Piceno, Consorzio Universitario Piceno e Associazione Dimensione Ascoli e finanziato nell'ambito del bando Be Active, promosso dall'Unione delle Provincie Italiane e dall'Agenzia Nazionale Giovani. Nell'incontro che ad Ascoli ha concluso questa attività non solo sono stati premiati i 5 migliori narratori digitali votati nei giorni precedenti su social network, ma è stata anche presentata StoryApp, applicazione che consente la scoperta del Piceno su smartphone e tablet. È quello strumento a disposizione di tutti i cittadini e di tutti i turisti che vogliono scoprire un patrimonio culturale del Piceno un po' inedito perché saranno guidati dalle storie di ragazzi che raccontano di sé e del loro rapporto con il territorio. Come? Attraverso un'applicazione. Se vedete è molto molto fruibile, molto smart. C'è una mappa che geolocalizza tutti i punti di interesse che sono descritti nelle storie in una mappa proprio fisica geografica che è percorribile dal visitatore e poi c'è una sezione che raccoglie le storie di questi giovani ragazzi under 35 che hanno raccontato appunto il territorio unendo l'arte della narrazione a quella della tecnologia. E ora le modalità di questo progetto potranno essere messe a frutto per altre iniziative simili anche grazie a una pubblicazione realizzata nell'occasione che raccoglie riflessioni di vari autori sulle finalità e le potenzialità di questo modo di raccontare antico e moderno al tempo stesso.